Grazie a tutti. 11 al Via, 1 Alcazar Griff, 2 Alexander B, 3 Asia OP, 4 Zagara Di Mazval, 5 Zea, 6 America Di Risaia in seconda fila, 7 Arkano Fnando, 8 Apollo F, 9 Angelica, 10 Zoran Mast, 11 Aquilanotte Sa. Si va in partenza con l'autostart che li raccoglie e va per lanciarli sulla dirittura delle tribune. Sbaglia Alcazar Griff, si parte con Asia OP che è la più veloce e assume l'iniziativa nei confronti di Alexander B, all'esterno Zagara Di Mazval, poi ancora America Di Risaia in seconda pariglia, Zea che galoppa mentre era terza alla corda. Quindi ancora il 7 di Arkano Fnando, Lunghi Birilli, Apollo F in terza pariglia esterna. 14,2 i primi 200 metri di corsa, la messa sul ritmo molto molto svelto Asia OP che si è fino un po' scatenata in avanti. Andrea Farolfi è disteso in salchi, 28,9 i primi 400 metri di corsa, cammina mentre galoppa Apollo F, cammina molto svelta Asia OP nei confronti di Alexander B, mentre passa terza sul calo degli altri America Di Risaia. Dopo 600 in 44,1 il gruppo è bello che è sfilacciato perché Asia OP va via tutta, Alexander B lo segue. Poi ancora America Di Risaia in quarta posizione, passa Arkano Fnando nei confronti di Angelica che va a scavalcare a sua volta Zagara Di Mazval in callo. 58,8 per i primi 800 metri di corsa, addirittura Asia OP continua a camminare a tutto gas con Alexander B, sempre lì incollato alla sua scia. Poi America Di Risaia che precede Arkano Fnando il chilometro in 1,14 e mezzo, 15,7 la curva. Ora un pochettino rallentato Asia OP ma era anche fisiologico mentre galoppa America Di Risaia, passa terza così Arkano Fnando, quarta Angelica in 1,2 in 1,29 e 2 con un paletto in 4. 14,7 Asia OP continua in vantaggio nei confronti di Alexander B che vorrebbe affacciarsi al suo esterno, Arkano Fnando e Angelica che cercano di tenersi sulle tracce dei primi due. Galoppa anche Arkano Fnando, l'ultima curva passata in 15,5 da Asia OP che è in vantaggio e cerca di svincolarsi da Alexander B, Asia OP che fa un numero vero in arrivo e un pochettino stanca la sostiene Andrea Farolfi ma vince ancora molto facile nei confronti di Alexander B e al terzo Angelica. 30 anche la chiusa 1,14,6 il raguaglio cronometrico se l'era un po' presa in partenza ma non ha sofferto più di tanto in arrivo. Asia OP che porta a casa il successo per i colori del signor Carlo Magnis, il training di Giuseppe Conticelli e la guida di Andrea Farolfi che porta a casa il costo costo con questa figlia di Ghiaccio del Nord che chiude e apre da favorita il successo di Asia OP. Andrea Farolfi Grazie 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 Grazie.